Ciao, buonasera a tutti. Allora, sì, Corrado, proprio come hai detto, vediamo se ci riesce a placare la rabbia, perché stasera parlo proprio di questo. Allora, in questa settimana c'era questa parola, la parola rabbia che hai usato tu, che ricorreva nei giornali e sui titoli dei quotidiani, la rabbia, la rabbia delle esercenti, la rabbia delle partite IVA, la rabbia dello spettacolo dal vivo, la rabbia dei ristoratori, no? Allora, stasera vi parlo proprio di questo. Cosa ti succede quando ti arrabbi? Allora, vedete che qua, rabbia è scritto con una vernice rossa. Non è un caso. Perché? Perché, dunque, voi sapete che tutti i colori che ci sono in natura, no? Che sono tantissimi, tutte le sfumature che esistono, in realtà nascono soltanto dal processo di mescolamento di pochissimi colori primari, che non raggiungono neanche le dita di una mano. Dall'unione di questi colori nascono tutti i colori. La stessa cosa avviene per le emozioni umane, per come siamo fatti noi. Le emozioni di base, le emozioni primarie, sono solo sei. La psicologia dice che noi, gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla latitudine, hanno sei emozioni di base, che hanno perfino bambini molto piccoli. E queste sei emozioni quali sono? Sono la paura, la gioia, la tristezza, il disgusto, il disprezzo e la rabbia. La rabbia è un'emozione primaria, cioè ce l'hai in quanto che essere umano, al di là dei giudizi, al di là dell'etica, la rabbia ce l'hai. Altra cosa è la degenerazione della rabbia, che è allora un'altra cosa. Quando tu, diciamo, inveisci, quando offendi, quando aggredisci, quando trasformi la tua rabbia non più controllata in violenza, quella è una degenerazione, è una disumanità. Ma la rabbia, la rabbia è una cosa assolutamente umana, fa parte del nostro statuto umano. Perché ho deciso di raccontarvi questo? Perché è da che mondo è mondo che l'essere umano ha paura della rabbia, ha paura delle conseguenze della rabbia e non a caso ha scelto per definirla un termine come rabbia che è quello della malattia dei cani, che sbavano, che diventano brutti a vedersi, per fare in modo che l'essere umano avesse paura delle conseguenze della rabbia. L'ira è uno dei peccati, no? Come per dirti stai attento, ma attenzione non ad arrabbiarti, alle conseguenze di quell'arrabbiarti. Cioè perfino un popolo, cioè un popolo eschimese, non so se lo conoscete, c'è un popolo eschimese che a mia ha sempre fatto una grande tenerezza, perché loro con questi igloo che hanno hanno una cosa, hanno un costume sociale, per cui quando qualcuno sente che sta per perdere le staffe, automaticamente se ne va e sta lontano dal corpo sociale per due, tre giorni e poi quando è sbollito rientra. Perché? Perché loro ritengono che la rabbia, la manifestazione della rabbia sia una cosa che sporca l'essere umano al punto tale che preferiscono andarsene e poi tornare. Tutto questo ce l'abbiamo un po' tutti. La paura delle conseguenze di quando ci arrabbiamo. E questa è una cosa molto brutta. Perché? Perché tende a trasferire su di noi un equivoco, che è quello per cui arrabbiarsi, manifestare rabbia, sia una cosa che ci degrada. Mentre non è assolutamente così. Io ho diritto ad arrabbiarmi. Quando leggo che viene autorizzata una partita di calcio a giugno con 16.000 persone allo stadio olimpico, mentre uno spettacolo all'aperto con mille persone porterebbe una mattanza di virus. È chiaro che io mi arrabbio, ma debbo arrabbiarmi ed è bello che io mi arrabbi, è umano che io lo faccia. Poi le conseguenze sono altra cosa evidentemente. Concludo. Perfino Gandhi, che viene ritenuto il simbolo della non violenza, perfino Gandhi si arrabbiò. Lo raccontava lui stesso. Anzi, se lui poi è diventato Gandhi, si deve proprio a quella arrabbiatura. Gli successe quando era giovane, era un avvocato alle prime armi, lavorava in Sudafrica, neanche in India. A un certo punto era in viaggio, era in treno, su una carrozza di prima classe. Arriva il controllore e gli dice lei deve andare in terza classe. Perché? Perché è di colore. E Gandhi risponde no, io non sono di colore, io sono indiano. E comunque sia, poi sono un avvocato. Non me ne porta niente. Lei non è di pelle bianca, va in terza classe. No, risponde Gandhi, io sono un avvocato, sono qua in prima classe. Non me ne porta niente. Lei va in terza classe. Sa come finisce? Che prendono il giovane Gandhi e, appedata nel sedere, lo buttano fuori dal treno. E passa tutta la notte in una piccola stazione. Gandhi racconterà quella notte di rabbia che io provai di profonda indignazione per ciò che mi era successo, mi portò a decidere che dovevo dedicare tutta la vita alla difesa dei diritti negati. Ecco per quale ragione se si è arrabbiato Gandhi possiamo, anzi dobbiamo, arrabbiarci noi. Ciao.